Grazie a tutti. A Confcommercio Ascom a Bologna. Benvenuti, benvenuti a tutti. Siamo in un luogo molto bello, siamo nel cuore del centro storico di Bologna. Vicino alle Due Torri, una volta dobbiamo sempre dire vicino alle Due Torri, adesso quindi anche non lontano dalla Torre Malata che è la nostra Garisenda. Siamo nella sede di Confcommercio Ascom Bologna, strada maggiore, in questo bellissimo salone. E saluto e ringrazio per l'ospitalità il Direttore Generale Giancarlo Tonelli. Grazie, grazie davvero. Buonasera, buonasera a voi e ben arrivati. Allora, siamo vicini alla Torre, alle Due Torri, cioè la Torre Garisenda. Partiamo un attimo da quella, nel senso che sta un po' la volta, si sta svelando che cosa succederà in queste operazioni, prima di messa in sicurezza e poi di restauro. Però c'è ovviamente ancora tanta preoccupazione, Tonelli. Beh, tanta preoccupazione per varie ragioni. Innanzitutto la Torre Garisenda insieme alla Torre Asinelli, diciamo, le Due Torri, sono uno degli aspetti più importanti dal punto di vista monumentale, architettonico, storico, culturale della nostra città, ma lo sono anche dal punto di vista turistico. Quindi, negli anni, le Torri hanno avuto un'attrazione molto forte sui turisti da tutte le parti del mondo. Lo dimostra il fatto che, per esempio, in queste settimane la Torre Garisenda, malata, per riprendere una sua espressione, ebbè, ha fatto il giro del mondo questa notizia. Così come lo aveva fatto a suo tempo la Torre Asinelli durante il periodo di Natale degli anni precedenti, quando noi l'avevamo illuminata con un gioco di colori e di luci particolarmente gradito sia ai bolognesi che ai turisti. Quindi, di per sé fanno notizia. Il fatto che la Torre Garisenda si sia rivelata malata con un problema serio su cui intervenire, è chiaro che rappresenta un problema ed una necessità di intervento che non può che essere condiviso. Quindi la Torre Garisenda va salvata, evacurata e va ripristinata per tornare ad essere una parte molto importante di attrazione del nostro centro storico. In tutto questo, se dobbiamo e vogliamo garantire tutti il presente e il futuro della Torre Garisenda, noi aggiungiamo, come Confcommercio Ascom, che la stessa attenzione e lo stesso interesse va messo sul fatto di garantire il presente e il futuro di tutte quelle attività del commercio, dei pubblici esercizi e dell'artigianato su strada che gravitano nella zona adiacente alla Torre Garisenda. Penso in particolare in questo momento, per esempio, al tratto di via San Vitale, che è stato di fatto chiuso al traffico sia ai mezzi pubblici che a quelli privati. In questo contesto le attività della strada hanno subito una forte contrazione di lavoro che mette a rischio le stesse attività e conseguentemente anche l'occupazione delle persone che vi lavorano all'interno, come titolari o come dipendenti. Ecco, in questo contesto noi chiediamo un intervento che sia omogeneo, cioè salvaguardiamo ovviamente e curiamo la Torre Garisenda e probabilmente, immagino, ci sarà la necessità di guardare molto da vicino anche la Torre Asinelli. Nello stesso tempo però molta attenzione anche a non creare del danno a delle vittime innocenti perché oggettivamente i commercianti di via San Vitale, ma gli stessi sarebbero per la stessa cosa in strada maggiore, in via Castiglione, in via Zambonio, in via Ristoli, sono assolutamente estranei a tutto quello che è avvenuto o non è avvenuto per la manutenzione della Torre Garisenda negli anni precedenti. Senta, c'è stato anche un po' di dibattito politico, poi ovviamente come ricordava lei l'obiettivo è salvare la Torre e salvare ovviamente i commercianti, non dimenticando anche i residenti di quella zona ovviamente. Certo. Però diciamo c'è stato un po' di dibattito politico anche nel Consiglio Comunale che abbiamo anche raccontato noi la settimana scorsa, però diciamo anche lei è rimasto un po' sorpreso dal fatto che dopo tanti anni che c'erano questi comitati scientifici che improvvisamente si è arrivati dicendo ok, pedonalizziamo, attenzione, può cadere. Cioè è rimasto colpito un po' in qualche modo dall'iter che è stato seguito anche dal Comune? Ma allora diciamo che l'iter che ha portato a galla questa situazione non c'è dubbio che è un iter anomalo, cioè esisteva dal 2018 un comitato scientifico che avrebbe dovuto tenere monitorato mese per mese l'andamento e la situazione della Torre, dopo cinque anni si scopre che c'è un problema serio. Noi ne prendiamo atto, cioè non eravamo all'interno di quel comitato scientifico e quindi prendiamo atto del fatto che c'è stato poi uno scambio di corrispondenza tra alcuni membri del comitato scientifico, la sovraintendenza ai beni architettonici artistici della nostra città e il Comune. A fronte di questo scambio di lettere e di documentazione scritta è partita la necessità di un intervento molto più urgente. A questo punto, al di là delle polemiche politiche, partitiche ed altro, il problema è davanti agli occhi di tutti, quindi c'è una necessità molto seria di intervenire. Mi sembra che l'ultimo incontro che c'è stato al Ministero della Cultura da questo punto di vista abbia anche chiarito come c'è la necessità che da una parte il Governo nazionale, ma anche la Regione, la città metropolitana e il Comune di Bologna lavorino insieme come istituzioni pubbliche nella stessa direzione. Il Comune ha aperto anche una sottoscrizione invece rivolta ai cittadini, alle imprese, guidata in modo particolare da Gianni Morandi e da Cremonini. Il fatto che ci sia questa attenzione anche per coinvolgere altri soggetti privati nella raccolta fondi dimostra che questo intervento non solo sarà lungo negli anni, perché si parla almeno di arrivare fino al 2026-2027 per i lavori che l'impresa Fagioli dovrà fare di consolidamento e riqualificazione e ristrutturazione della Torre Garisenda, ma anche di una esigenza di gestire in questi anni quindi una situazione che appunto per quello che riguarda il coinvolgimento delle attività del commercio, dei pubblici esercizi, dei residenti, porterà a probabilmente in un periodo lungo delle trasformazioni che bisogna seguire con molta cura per evitare dei danni ancora ulteriori a chi ci abita e che ci lavora. Non ci sono ancora dei numeri ufficiali, anche se qualche cosa ufficiosa è uscita su questi ristori, nel senso che giustamente vengono chiesti, perché sembra che il Comune non abbia tutta questa disponibilità diciamo così economica nel contribuire delle attività, perché ricordava anche lei in quella zona ci sono attività magari con il titolare che lavora nel suo negozio, il piccolo imprenditore che ha qualche dipendente, ma ci sono anche delle realtà molto grandi che hanno ovviamente decine di dipendenti, quindi ci sono dei rischi molto forti, però diciamo queste cifre non sembrano così alte. Per ora negli incontri che abbiamo avuto con l'amministrazione comunale, in modo particolare l'assessore Guidone che devo dire si è dimostrata molto attente, molto presente negli incontri, però poi nella scostanza quando si è parlato e sia noi che anche altri abbiamo posto sul tavolo la richiesta di ristori certi per le aziende toccate da un calo evidente e dimostrabile del lavoro, la risposta è stata che l'amministrazione immagina un percorso nel quale caso per caso, situazione per situazione, venga esaminata da un punto di vista tecnico. Bene, nel senso che non c'è da questo punto di vista nessun tabù a ragionare anche in interventi mirati, caso per caso, però bisogna che i ristori siano immediati, cioè quello che sta avvenendo in questo momento è che il calo è già in essere. Quindi se noi ci immaginiamo un fine dell'anno con, come sta capitando, un calo di lavoro del 50 o 60% in tante attività di via San Vitale, è chiaro che se immaginiamo questo spalmato per esempio sul mese di dicembre, che è il mese più importante dal punto di vista commerciale, ricordo a tutti che tendenzialmente in quel mese le attività del nostro mondo fatturano il 20% del loro fatturato annuo complessivo. Quindi di conseguenza se gli viene a mancare una parte significativa di quel mese, è chiarissimo che da gennaio il problema ce l'hanno ancora più evidente forte, per pagare i fornitori, per pagare i dipendenti, per pagare gli affitti. Possiamo lanciare a questo punto direttore un appello quasi, nel senso, bene, è stato lanciato con Morandi e Cremolini l'appello a raccogliere fondi per la torre, però in qualche modo l'invito è comprate nei negozi, comprate nei negozi di vicinato, cioè nel senso effettivo, questo va sempre bene perché comunque alla fine sono la grande risorsa di questo territorio e di questa città, perché io lo ricordo sempre, mi dispiace, sono noioso, però dove si spegne la ventina di un negozio arriva, e poi parleremo anche di legalità, Lei non è noioso dicendo queste cose. Dove si spegne arriva la criminalità, arriva la sporcizia, arrivano tanti fenomeni negativi, però potrebbe essere questo anche l'invito in questo Natale, diciamo, a buttare un occhio ancora di più a queste realtà? Allora, noi devo dire da tempo, grazie anche alla collaborazione per esempio con la vostra televisione, ma anche con altre realtà legate ai media, abbiamo sottolineato sempre come ConfCommercio Ascom e gli anni del Covid lo hanno ulteriormente rinforzato questo ragionamento come il commercio di vicinato rappresenta un valore oltre che, ovviamente, economico per chi lo pratica, ma sociale per la collettività. Lo diceva adesso lei, c'è un problema di sicurezza, c'è un problema di tranquillità, anche per i residenti che abitano in quella zona, anche per gli anziani che magari fanno fatica a spostarsi molto, anche per le persone che magari hanno qualche handicap o qualche malattia, per le famiglie con dei bambini piccoli, cioè il commercio di vicinato rappresenta da questo punto di vista certamente un valore anche sociale. Col Covid lo abbiamo visto, con le consegne a domicilio, con un'attenzione molto particolare nei confronti dei clienti e dei consumatori e anche il fatto che in questo momento questo Natale noi continuiamo a chiedere di acquistare nei negozi di vicinato, devo dire in questo caso questo ragionamento vale per tutti, non vale solo ovviamente per via San Vitale, ma vale anche per tante altre zone, sia della città che della nostra città metropolitana o della regione Emilia Romagna. Ecco, quindi comprare dai commercianti sotto casa è sicuramente anche un investimento sociale, cioè garantire il controllo del territorio con la permanenza di queste attività. Poi certamente quello che sta capitando in via San Vitale rappresenta un ulteriore motivo, perché queste attività, ripeto, sono vittime innocenti di quello che è capitato. Non c'è una responsabilità da parte di chi ha lavorato lì per anni, ha investito o sta investendo in queste attività con quello che sta capitando, perché assolutamente non c'è nessun collegamento tra questi commercianti e i problemi che si sono creati con la Torre Garisenda. Anzi, quei commercianti più di una volta hanno concorso anche al rilancio di una zona che, come sappiamo, essendo limitrofa a Piazza Verdi, a Via Petroni, insomma, aveva avuto dei problemi di altro tipo. Quindi quella zona di Via San Vitale è sempre stata anche un po' un antidoto ad altri problemi. Tema della legalità. Stiamo allora sull'attualità, su quello che avete presentato proprio in queste ore, in questi giorni, che è ancora la voglia di essere attenti al territorio, di curare questo territorio e di essere di supporto a chi il territorio lo vive, ci lavora e ci vive così? Il tema è proprio questo. Noi siamo in una situazione nella quale ci rendiamo conto, e credo che ognuno di noi si renda conto, come la nostra società è sicuramente cambiata. Cambiata da un punto di vista anche della sicurezza e della percezione della insicurezza in maniera anche abbastanza forte. C'è un problema di microcriminalità, c'è un problema di criminalità, c'è un problema di furti, di rapine, di scippi, c'è un problema di baby gang. Cioè tutte queste cose messe insieme naturalmente creano anche nei consumatori, nelle persone, una qualche difficoltà. Non parliamo poi della violenza sulle donne che purtroppo si estende in maniera ancora più forte la sera e la notte. Quindi da questo punto di vista, ma non è solo un problema bolognese, è un problema purtroppo nazionale ed è un problema sicuramente europeo, ecco c'è la necessità di prevenire, fin dove si può, questi tipi di reati o questi tipi di situazioni. Noi stiamo operando proprio in questo modo, quindi tutelando la legalità contro l'illegalità. Ci siamo trovati per varie occasioni in contesti nei quali per esempio l'abusivismo era un tema che si manifestava nelle nostre strade e nelle nostre piazze. Attenzione, dietro all'abusivismo, cioè alla vendita di prodotti contraffatti, c'è la criminalità che ha un vero giro d'affari miliardario rispetto a questo. E quelli che noi chiamiamo i bucunpra in realtà sono ulteriori vittime perché sono sfruttati come lavoro in nero. Quindi due volte c'è uno sfruttamento per quello che riguarda la vendita di prodotti contraffatti e per quello che riguarda lo sfruttamento di queste persone che vengono pagate naturalmente pochissimo e ovviamente evadendo il fisco. Allora in questo contesto la lotta all'abusivismo si estende anche sul fatto di garantire una legalità che sia all'interno e all'esterno dei negozi. Noi dal 1 di dicembre fino al 6 di gennaio come Comercio Ascom di Bologna e il nostro Presidente Postachini abbiamo concordato di inviare sul territorio in tutta la città di Bologna 12 vigilantes che con le nostre pettorine ben chiare evidenti e disarmati saranno però un occhio attento a quello che succede all'interno dei negozi nostri associati e anche però guarderanno quello che avviene su strada o su piazza pronti e questo è l'intesa che abbiamo con la Prefettura, con l'arma dei Carabinieri, la Polizia di Stato, la Guardia di Finanza e la Polizia Locale pronti a segnalare a loro eventualmente qualcosa di anomalo che accadesse sul territorio. Quindi in sostanza siamo sì preoccupati ma ancora di più vogliamo essere attenti e determinati per garantire la legalità nel nostro territorio. L'importante è dare delle risposte perché altrimenti siamo tutti bravi a fare chiacchiere da bar poi bisogna che qualcuno abbia delle risposte e questo mi sembra quindi 12 persone che diciamo saranno ben identificate, questo è importante che nessuno millanti di dire ma io faccio parte di 12 e l'Ascom non è così. Ma avranno una pettorina con scritto Ascom, questo è commercio molto riconoscibile. Allora senta, torno un attimo sul tema, un altro tema caldo, nel senso questo è un periodo dove veniamo da un passante, veniamo dal tram, poi la Ture Carisenda è stata sicuramente diciamo l'imprevisto, però dopo si è lanciato il tema anche della Città 30, parlo sempre del Comune di Bologna, poi è arrivata adesso la pedonalizzazione di Piazza Grelea e Piazza Roosevelt di cui voi date un progetto di cui rivendicate in qualche modo la paternità addirittura 25 anni fa, quindi questo fa capire come ci arrivano ma ci vuole un po' di tempo. non è troppa carne al fuoco, nel senso che la sensazione è che si voglia continuare a mettere, per chi fa la brace, le braciole sulla griglia, non c'è questa sensazione, non c'è già tanta roba da fare. Ma non c'è dubbio che la tempistica con la quale tutti questi progetti sono stati messi sul tavolo è comunque un problema, è comunque una preoccupazione. È vero che quello che è capitato adesso con la Carisenda oggettivamente fino a due mesi fa non era prevedibile, aggiungo che nei ragionamenti che abbiamo fatto precedentemente ma diventano attuali con le cose che ha detto lei ora, c'è un altro tema che emerge, cioè immaginando di dover chiudere e pedonalizzare la parte di Porta Ravegnana e quindi come adesso c'è già una mancanza di passaggio per il pezzo pubblico e privato da via San Vitale, si deve immaginare di rivedere all'interno del nostro centro storico tutta la mobilità per quello che riguarda sia Tiper, cioè il passaggio dei bus, dei civis, dei crealis e di tutti quanti i mezzi di Tiper, sia di quelli privati e anche di quelli che naturalmente fanno il trasporto in conto proprio, in conto terzi per tantissime attività sia del commercio che dell'artigianato e dei pubblici esercizi. Quindi in questo contesto dobbiamo immaginare anche come rivedere la nostra mobilità cittadina e non solo quella cittadina perché in realtà Bologna come sappiamo è una città di 390.000 abitanti con gli studenti universitari fuori sede che hanno superato solo quelli fuori sede i 60.000 e in più durante tutto il giorno sono almeno 100-150.000 le persone che dalla provincia vengono per lavorare nella nostra città. Quindi voglio dire una città che ha un'esigenza di mobilità che arriva addirittura dalla città metropolitana ma poi entra in tutte le nostre zone sia di periferia che di centro storico. Tutti i cantieri di cui abbiamo ragionato adesso certamente vanno a incidere sulla mobilità. Noi vediamo che cosa sta capitando nella zona di Ponte Lungo dove praticamente Borgo Panigale e Santa Viola sono toccati da un cantiere che riguarda solo un ponte della nostra città. E' chiaro che questa cosa qui immaginiamola moltiplicata per tutti quelli che potrebbero essere i cantieri del tram e i cantieri del passante il rischio di un corto circuito bisogna evitarlo. Bisogna evitarlo sia per tutti quelli che ogni mattina vanno a lavorare ma sia anche per le famiglie che per esempio accompagnano i bambini a scuola. E da qui la nostra proposta per esempio di rivedere il piano regolatore degli orari della città alla luce anche di tutta una serie di provvedimenti e su cui certamente oltre ai cantieri anche la città a 30 km all'ora rischia poi di andare a incidere. Nessuno mette in discussione il fatto che vada garantita la sicurezza delle persone. Ma questo è un dato di fatto direi insomma. Io vorrei sapere chi è quel matto che dice che bisogna che la gente si vada a schiantare in macchina o in moto dal campo questo che rischia di essere un po' ideologico. Siamo tutti d'accordo nel dire che bisogna garantire la sicurezza e l'incolumità di tutti. Dopodiché bisogna anche cercare di avere un diritto alla mobilità che permetta alle persone di non stare in auto, in macchina, in autobus, cioè quei 50 minuti per andare a lavorare. Io lo dico sempre ci sono certi orari della nostra città, proprio della mobilità della nostra città in cui per spostarti da Casalecchio a San Lazaro ci metti più di un'ora. Onestamente nel 2023 questa roba stride. Poi sono d'accordo che alcuni provvedimenti come per esempio il tram potrebbero domani garantire una mobilità più facile, più semplice, più veloce. Però attenzione facciamo in maniera tale allora che non ci sia una sovrapposizione di troppi provvedimenti. Creiamo un timing che permetta di intervenire con una certa tensione. Ecco, in questo momento vedo tanti progetti di cui si sente parlare venire avanti, evitiamo la congestione di queste cose. Ma sembra quasi che ci sia una sorta di fretta, come se bisogna chiudere tutto entro una certa data che forse non è la scadenza elettorale dell'amministrativa, forse si pensa ad altro, non lo so. Senta, faccio una considerazione perché in questi giorni diciamo... Ehi, Spada stasera è in forma, la vedo in forma. Diciamo, avendo la postazione vicino all'Ascom è stato facile arrivare, altrimenti no. Però diciamo una valutazione che gira un po' in questo periodo, nel senso 1999-2000, Guazzalocca tra l'altro tra poco gli sarà doverosamente intitolato anche uno spazio nella città nel suo centro storico che tanto amava. Progetto della metropolitana. Noi oggi potevamo già dire, ma c'è la metropolitana, quindi la torre pedonalizziamo, facciamo così. C'è un po' di rammarico, diciamo, pensando a quello che è successo oggi? Non voglio essere... Non è malizia politica, però è un dato di fatto, anche perché la metropolitana e i fondi di Bologna, mi risulta che abbiamo fatto la metropolitana a Brescia e stia funzionando benissimo. Brescia che non ha i problemi nostri di mobilità. Purtroppo lei ha totalmente ragione. C'è del rammarico per quello che è capitato, che è stato di una miopia totale. Io ricordo bene quando il comune di Bologna, la giunta Guazzalocca, ottenne i finanziamenti per il metro e il metro era previsto che la prima linea partisse dalla piazza Maggiore per arrivare alla stazione ferroviaria e poi raggiungere la fiera. Questa era la prima linea a cui avrebbero potuto eventualmente nel tempo poi seguirne altre. E come dice chiaramente il termine, il metro è tutto sottoterra, quindi di conseguenza avrebbe anche avuto un impatto sul togliere del traffico dalle strade evidente. Lì fu fatta una scelta molto forte, devo dire, dalla provincia in quel momento e dalla regione Emilia Romagna in antitesi al metro e quindi lo ostacolarono. Poi Cofferati, eletto sindaco nel dopo Guazzalocca, addirittura smantellò questo progetto. Oggi siamo qui nel 2023 a rimpiangere il fatto di non avere fatto quella scelta perché comunque era una scelta tecnica che tantissime città in Europa hanno fatto e che ha dato dei risultati che sono sotto gli occhi di tutti. Quindi dal punto di vista tecnico fu proprio fatto un errore smantellando quel metro. Allora a questo punto diciamo, intanto appunto ritorniamo a questo momento, a questo periodo. Lei dava un dato molto significativo, cioè il 20% del fatturato che fa un'attività commerciale in questa città avviene proprio in questo periodo. Quindi questo diciamo è un dato importante per capire quello che significa. Tante sono anche, non voglio fare una sorta di sintesi di quello detto, però c'è il tema dell'abusivismo, anche quello ovviamente. Giusto per dire che ogni cittadino deve sentirsi comunque molto coinvolto in tutte queste cose, no? Cioè non possiamo dire, vabbè, guarda quello, guarda e tirare dritto. Cioè deve esserci l'impegno. Voi la vostra parte la fate, avete segnalato, però diciamo deve essere un impegno di tutti. Guardi, da questo punto di vista io credo che davvero vada fatta una riflessione profonda, prima di tutto culturale. La nostra società è profondamente cambiata in questi ultimi dieci anni. Personalmente ritengo che non quella bolognese, quella italiana, ma anche quella europea, tendenzialmente sia cambiata in peggio. Non c'è dubbio che ci troviamo di fronte come comunità a dover gestire una serie di fenomeni che si sono creati con evidenti problemi e evidenti conseguenze. Potrebbe essere lunghissimo l'elenco che potremmo fare di quelle che sono state le trasformazioni della nostra società in peggio in questi ultimi dieci anni. Detto questo non ci possiamo rassegnare all'idea che però siccome è peggiorata così rimanga. Quindi abbiamo tutti il dovere, la parte sana di questa società che è ancora nettamente maggioritaria, di intervenire. E attenzione, non stiamo parlando dei massimi sistemi. Stiamo parlando di sottolineare, denunciare, chiamare le forze dell'ordine piuttosto che le istituzioni, piuttosto che le associazioni di categoria, piuttosto che i sindacati, piuttosto che altre realtà. E segnalare, questo succede nei condomini dove sono arrivate situazioni magari di degrado o di spaccio o di prostituzione. Questo succede per strada dove le baby gang importunano, aggrediscono. Questo succede per esempio nelle scuole dove chiaramente ci sono dei problemi anche di interrelazione fra i giovani. Questo succede da tante altre parti della nostra società in cui quello che conta è non girarsi dall'altra parte. Noi abbiamo bisogno di mantenere molto alta la soglia dell'attenzione e di intervenire, cercando di creare anche le condizioni perché le tante persone che sono arrivate nelle nostre città, nelle nostre campagne, le tante persone che cercano un lavoro, che cercano di appunto inserirsi nella nostra società, quelle persone che sono magari scappate da guerre o da problemi molto seri, possano venire inserite nella maniera migliore. Mentre invece vanno rispediti a casa loro, questa è la mia opinione, tutti coloro che sono arrivati qui da noi per delinquere. E quindi in questo diciamo si chiede anche al governo, perché poi alcune realtà dipendono anche dal governo, perché anche questa violenza, le dicevo è vero che oggi purtroppo le città sono magari più pericolose, la violenza è diffusa, però devo dire che Bologna in quest'ultimo periodo sta conoscendo dei fenomeni abbastanza importanti a partire da queste baby gang e ci vuole chiaramente un grande impegno. Bene, sono arrivati i 30 militari mandati da Piantedosi, benissimo, però è chiaro che effettivamente diciamo si deve chiedere un'attenzione, perché non è possibile non poter girare la sera in maniera serena, no? Cioè alla fine la violenza nei confronti di una donna può essere anche quella che le si impedisce di avere la libertà di girare liberamente o di girarsi sempre per controllare quello che succede intorno. È esattamente così, io credo che da questo punto di vista lo sforzo vada fatto prima di tutto a livello legislativo. Il tema è molto semplice, per evitare di affollare le nostre carceri a un certo punto, secondo me sbagliando, il legislatore ha deciso che venivano derubricati alcuni reati e tradotto vuol dire che in alcuni casi il delinquente che viene arrestato dalle forze di polizia al massimo prende una denuncia e poche ore dopo è di nuovo in libertà. Allora, questo è assolutamente demotivante per chi compie gli arresti, ma ancor di più per chi denuncia, ancora di più per quel commerciante o quella famiglia o quella persona che ha segnalato che se lo ritrova qualche ora dopo davanti di nuovo al proprio negozio o alla propria casa. Questo è inaccettabile anche perché molto spesso intuiscono da chi è partita la denuncia. Allora, noi abbiamo bisogno, secondo me, da questo punto di vista, e non è una questione di schieramenti. In maniera bipartisan bisognerebbe che si rimettesse mano una volta con molta attenzione a questi aspetti. Se noi derubrichiamo una serie di reati, come possiamo pensare poi di intervenire? Ci stiamo veramente creando da soli dei problemi e poi dall'altra parte certamente bisogna fare un grande sforzo dal punto di vista, dicevamo prima, anche culturale perché l'accoglienza non può fermarsi a dire è giusto che nel nostro paese arrivino tutte le persone in difficoltà, magari in Africa e noi dobbiamo avere il dovere di accogliere. Non basta. Bisogna anche avere un'accoglienza che sia nelle condizioni di dare a queste persone delle regole e delle modalità con le quali vivere in una maniera opportuna nei nostri territori. Anche per il loro bene. Ma anche per il loro bene ovviamente. Ok, torniamo al Natale. Grazie e allora facciamo di nuovo questo grosso grande invito, diciamo così, a privilegiare i negozi, i negozi rivicinato che sono un punto di riferimento, l'abbiamo detto, emerso con forza in questo momento, ma direi tutto l'anno comunque. Ovviamente auguriamoci anche per quelle attività che oggi devono soffrire un po' di più perché sono nella zona intorno all'autore Garisenda perché ricevono quello che è giusto e corretto e quindi davvero lasciamoci con questo invito, insomma, questo momento di serenità. Intanto lasciamoci con l'invito, con l'augurio che sia un buon Natale per tutti e che questo naturalmente tutte le nostre famiglie, tutte le persone che conosciamo, che insomma anche naturalmente i vostri teleaspettatori. In più, se vogliamo che sia ancora migliore, compriamo dai commercianti sotto casa. Bene, anche lei informa questa sera per cui stiamo una coppia perfetta. Grazie a Giancarlo Tonelli, direttore generale di ConfCommercio Ascom Bologna, grazie a voi che ci avete seguito, grazie alla regia di Gabriele De Conto e vi ricordo sempre canale 14, Teneromagna, tutti i mercoledì, tvbologna.it è il nostro portale di informazione, il nostro canale YouTube dove rivedere tutto on demand, tvbologna, ovviamente tutto il mondo social che non si può mai lasciare, abbandonare, ci mancherebbe altro. Davvero grazie a tutti voi, l'appuntamento è mercoledì prossimo. Grazie a tutti. Grazie a tutti.